La prima edizione di Mura in Festa riporta a Macerata e soprattutto nel suo tempio primario lo Sferisterio il gioco della palla a bracciale grazie anche alla collaborazione dell'ente di sfida di Treia. Lo Sferisterio di Macerata per quelli che giocano a bracciale è come per un calciatore giocare al Maracanà oppure al Bernabeu e perché tutti quanti invidiano questo posto che oramai ha perso la sua origine di un posto dove si gioca al bracciale è diventato il tempio della musica maceratese nazionale e internazionale. Quindi non si può ritornare all'origine però ricordare ogni tanto che anche a Macerata c'era questo bellissimo gioco tradizionale fa piacere e fare una rievocazione su questo piano ci è sembrato molto interessante e molto positivo. Il movimento della palla al bracciale conta in Italia 450 tesserati divisi in 16 società. La palla al bracciale in Italia sta di nuovo avendo una rinascita perché tutti i problemi nati dopo il 1992 che praticamente era arrivato a morte siamo riusciti a far ripartire grazie anche all'interessamento del signor Canesin che come delegato regionale ha dato un notevole contributo. Grazie anche al lavoro svolto dalla federazione e dall'associazione nazionale del gioco del pallone col bracciale siamo riusciti l'anno scorso a avere 13 squadre, quest'anno 14 squadre che faranno il campionato federale partiamo da Macerata e arriviamo fino al Piemonte all'Astigiano quindi ne siamo abbastanza orgogliosi. L'esibizione dello Sferisterio ha fatto da prologo ai prossimi campionati italiani del 15 e 16 ottobre che saranno organizzati da Macerata nel comune di Treia. La femminile e l'Under 15 si giocheranno il primo fino settimana di ottobre a Firenze il secondo si giocherà la serie B a Firenze e poi il clou sarà appunto il 15 e 16 a Treia con l'organizzazione dell'Aclima Cerata perché ricorre gli 80 anni dal primo campionato professionistico del 1936 giocato in questo tempio. Purtroppo siamo riusciti a poterci provare qualcosa molto tardi altrimenti forse il sogno di giocare qua poteva non essere un sogno. Comunque sarà organizzato da Macerata e sarà giocato all'Arena di Treia.